questo video è un po' un ritorno alle origini ai vecchi tempi nei quali faccio vedere dove sto camminando magari vecchi tempi nei quali per riprendere fiato dopo che mi sono fatto sta roba qua che non è poi tantissimo però sali scende sali scende è un po' complicato i cari vecchi tempi in cui si facevano i video per respirare quanti ne ho fatti in sud america qui un po meno ancora mi ricordo quando andavo a tutti i mirador paurosi il problema di questo luogo è che non ci si può mettere seduti perché è tutta terra fondamentalmente terra franabile quindi bisogna trovare un cespuglio ci si mette seduti su quelli comunque la strada continua per la valle ancora non siamo arrivati alla valle delle fate o delle rose ma non mi ricordo come si chiama ce l'ho scritto ma al momento non è quello l'importante sarà qua dietro speriamo insomma e guardate i colori il problema è che nessuno viene a piedi quindi se muoio se mi pia qualche corpo vabbè cominciamo ancora no ancora non comincia a fare i saluti ma a certo punto comincerò a fare i saluti e lasciare testamento scrivete da fa un video testamento e via guardate che splendore però